Acquistare una vettura americana è già un volere essere fuori dal coro, acquistando una Militem si è ancora di più fuori dal coro. Intanto cos'è Militem? Poi parliamo di questa cosa che abbiamo dietro. Allora, Militem è un marchio nato l'anno scorso, da una nostra idea. Quello che vediamo qui dietro è il nostro Ram 1500 RX, il veicolo è motorizzato con un 5700 V8 EMI e quindi Militem ha intervenuto sull'impianto di scarico per regalare un sound più grintoso e più interessante a questo motore. Inoltre Militem RX si può avere in versione benzina e in versione B-Fuel a GPL. Circolare per le strade italiane con un incrociatore di queste dimensioni, che ha pieno carico a un peso che si avvicina alle tre tonnellate, non è sempre un gioco da ragazzi. Ma una volta superate le inibizioni legate alla mole, l'esperienza è davvero insolita. Si guida in una posizione panoramicissima, alloggiati in un abitacolo arredato in modo faraonico, contando su una potenza fuori portata per qualsiasi altro pick-up ufficialmente in commercio. Va da sé che non si può pretendere un feedback squisitamente sportivo, ma affondando l'acceleratore, questo REM guadagna velocità in maniera inaspettata e se la larghezza della strada lo consente, ci si può anche prendere qualche libertà, perché lo sterzo abbastanza reattivo rende la guida piuttosto precisa. Certo, l'offerta del pianto a GPL è sensatissima e secondo Militem riduce le spese per il carburante a livello di una 2000 turbodiesel. Comunque, se la curiosità che sollevate circolando col REM Militem non vi basta ancora, provate a metterli in moto a distanza col telecomando e avrete tutti ai vostri piedi. Grazie a tutti!